Ciao signore, lo spazio per i ragazzi ci porta oggi dentro la scuola. Un anno fa Giovanni Paolo II, beato, a Gravesano, un segno di affetto. Come educare i bambini alla spiritualità, parola all'esperto Ezio Aceti. Come educare i bambini alla spiritualità, parola all'esperto Ezio Aceti. Dentro la scuola. Un anno fa Giovanni Paolo II, beato, a Gravesano. Ciao signore, lo spazio per i ragazzi ci porta oggi.